Felicia oggi è un simbolo della lotta contro la mafia, Felicia è un simbolo di madre, di madre coraggio, un simbolo di resistenza, è probabilmente la persona che più di tutte ha contribuito a riscattare la storia di Peppino, ma per me Felicia era mia nonna. È con queste parole che il racconto si fa vita e sarà portato avanti da tutti i bambini e le bambine che da questa scuola muoveranno i loro primi passi nel mondo. Da oggi a Caltanissetta la scuola dell'infanzia del villaggio Santa Barbara sarà intitolato a Felicia Bartolotta Impastato, donna che ha tenacemente combattuto contro la mafia, quella mafia che uccise suo figlio Peppino, il giornalista oggi simbolo per intere generazioni che da radio a auto denunciava i mafiosi e i loro traffici. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Laura Zurli, del vicario e del questore il dottor Gaspare Calafiore, dell'onorevole Teresa Gentile e della presidente dell'associazione onde donne in movimento Aster Vitale, che ha promosso l'iniziativa di un'intera giornata dedicata alla figura di Felicia Impastato, a cui hanno preso parte Maria Luisa Impastato, nipote di Felicia, insieme alla scrittrice Maria Albanese, che ha scritto con Angelo Sicilia Io Felicia, conversazioni con la madre di Peppino Impastato, presentato nel pomeriggio, e del presidente dell'associazione musica e cultura di Ciniti, Salvo Ruvolo. Questa scuola che è già un presidio culturale di per sé, per il territorio che rappresenta, oggi parla, oggi parla delle vittime della mafia, oggi parla di Felicia. Grazie all'associazione onde donne in movimento, al predecessore, il preside Cassetti, oggi questa scuola celebra un momento importante, qui si piantano le querce, sono le querce dell'antimafia, sono le querce della testimonianza, sono le querce del nostro grazie alla donna Felicia, che è donna giusta, è donna che non ha voluto arrendersi mai. È la prima scuola ad essere intitolata Felicia Impastato in Italia, fortemente voluta dall'associazione onde donne in movimento, che continua il suo progetto per dedicare scuole, strade, piazze e nomi di donne che hanno fatto la storia del nostro paese. È da tempo che noi onde donne in movimento, socie di toponomastica femminile, cerchiamo di riequilibrare la toponomastica tra intitolazioni dedicate a uomini e intitolazioni dedicate a donne. Abbiamo scelto questa scuola, una scuola dell'infanzia, perché crediamo che Felicia Bartolotta Impastato sia stata una mamma adorabile, una nonna adorabile, che quindi i bambini possano vedere in lei veramente un faro, un esempio.